Bene, vediamo gli strumenti di lavoro. E queste le chiamate pance? Vergognatevi! Che cosa hai da dire a tua discolpa? Beh, ecco, ve lo... Non tu, la tua pancia! Oh! Voglio imparare a mangiare nel modo giusto! E tu con la tartaruga, sentiamo? Sono pronta alla sfida, signore! Pronta a darci dentro, mosciarino? La mia pancia non riesce ancora a parlare! Ci aspetta un bel po' di lavoro! Bene, come prima cosa, ragazzi, consegnateci i vostri ossi del sorriso, prego! Dentro il secchiello! Sul serio? Vuoi imparare a mangiare o no? Li conserverete seguendo le norme igieniche? Certo, perciò li ho messi nel secchiello! E adesso mangiamo! Quelle pance sono belle e mature! Potete riprendervi gli ossi del sorriso! Ve li siete guadagnati? Ah, questi non sono i miei! Questi credo che guadagnano i miei! Questi sono i tuoi! Robin, hai mai pensato di mangiare un po' meno pesci? Ah, ha notato! Sentiamo cosa hanno da dire le vostre pance! Riempitemi di cibo! È l'ora della panciotta! Vedo che la tua pancia ancora non parla, eh? No! La pancia sa parlare! Adoro le vostre pance parlanti! Ora portatevi altro cibo! Perché dovremmo portarti altro cibo? Nel mondo delle pance comandano le pance più grosse! E quelle siamo noi! Sgrassatevi, pancioni! Io sono il più grosso e io comando! Vigio è la regola della maggioranza! E noi siamo di più! Io sono le pance! Guardate, faccio da quel quattro! Basta, pance! C'è soltanto un modo per sistemare la questione! Esatto! È ora di riavvire la pancia! C'è soltanto un po' di riavvire la pancia! C'è soltanto un po' di riavire la pancia! C'è soltanto un po' di riavire la pancia! Grazie! Grazie!